Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi andremo alla scoperta di un filato che, potremmo dire, non ha bisogno di presentazioni. Un filato amatissimo, fine, elegante, che vi permetterà di creare dei capi, degli accessori, degli inserti davvero unici nel loro genere. Stiamo parlando proprio di lui, dell'Handy. Andiamo quindi subito a scoprirne tutti i dettagli. Come vediamo un formato in rocca, praticissimo quindi, e con questi preziosi inserti in lurex che lo rendono davvero unico. La composizione dell'Handy prevede un 41% di cotone, 36% di acrilico, 18% di poliamide e 5% di poliestere. Il peso della rocca è di 200 grammi, per una lunghezza di ben 1.340 metri all'incirca, quindi davvero una resa incredibile. E allora scopriamo tutte le colorazioni. Partiamo dai toni del blu, quindi il marino azzurro, il cielo lux, bluet blu ed infine l'elegante blu lux. Passiamo a dei toni più caldi, quindi il corallo lux, senape oro, arancio oro e il mattone rame. Per gli amanti dei colori neutri abbiamo il camoscio rame, il nocciola oro, il panna oro e il bianco argento. Passiamo ora a dei toni molto delicati e femminili, il rosa lux, il lilla rame, il viola viola ed il lilla lilla. Per i toni del verde partiamo da un verde lux, uno smeraldo oro e per concludere il militare rame. E per concludere quelli che potremmo considerare dei colori classici intramontabili, il nero oro, il ghiaio argento, il rosso lux e il fucsia argento. Tantissime nuance e varianti di colori, con l'urex in abbinamento, tono su tono, argento, oro, quindi tantissime variabili che rendono questo filato già di per sé molto versatile, utile per tantissimi generi di creazione. Pensate ad esempio a degli accessori eleganti come uno scialle o una stola. Nel corso del tempo abbiamo visto l'utilizzo di questo filato sì per capi eleganti che abbiano un tocco di luminosità, quindi perfetti anche per gli eventi serali, ma anche per la creazione ad esempio di copricostumi o anche cardigan top che potrete utilizzare anche quotidianamente. Troverete infatti diversi tutorial da cui trarre ispirazione e per di più sul nostro gruppo ufficiale Tessiland tantissime tessilandine hanno condiviso con noi le loro meravigliose creazioni. Particolarmente noto per la sua leggerezza, Tessiland è perfetto per essere lavorato da solo ma anche in lavorazioni a doppio o ad esempio in abbinamento ad un filato in cotone, come ad esempio il filo di scozia. Ci ha pensato, l'ha fatta tuttofare, a mostrarci come utilizzarlo in questo caso, realizzando infatti l'abito Adele. Potrete lasciarvi ispirare da tutte le sue colorazioni. Io come sempre vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, Facebook, quindi la pagina Meglio di Maya, ma anche il nostro gruppo ufficiale Tessiland, Instagram, TikTok, Pinterest e non per ultimo il nostro blog, dove ogni settimana troverete tantissime novità. Non dimenticate inoltre di attivare la campanella così da non perdere nessuna novità. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News. Ciao!